Ciao ragazzi e bentornati su Nairpool.it. Anche questa settimana abbiamo tantissime novità da vedere insieme e forse vi aspettavate questo video di giovedì in realtà esce oggi proprio perché sono tantissime le cose che dobbiamo spulciare e snocciolare nel dettaglio le uscite settimanali chiaramente Marvel e DC Comics ma anche anteprima 350 che è finalmente uscita e possiamo iniziare a vedere quali saranno i prossimi acquisti per il mezzo di dicembre e andando avanti. Quindi non perdiamo assolutamente altro tempo. Vi ricordo come sempre di seguirci su tutti i nostri social network che sono linkati nella descrizione di questo video e adesso come sempre vediamo la nostra sigla. E vi anticipo già che sarà un video abbastanza lungo quindi nella descrizione del video stesso metterò tutti i vari link con i vari momenti, i vari orari all'interno del video nel quale potete switchare se vi interessano di più le uscite, se vi interessa di più anteprima o se vi interessa di più la carrellata che faremo sulla mia casella. Era una cosa che non facevamo da tanto tempo, la facevamo su Comics Detonation, chi mi segue da lì se lo ricorda ma è il caso di riprenderla soprattutto perché questa settimana è veramente cicce la casella quindi ci sono tantissime cose da vedere insieme e con la nuova prospettiva che abbiamo visto nel video precedente avremo una webcam proprio che focalizzerà l'attenzione sui fumetti e li vedremo uno per uno. Quindi tutti i problemi di visibilità che c'erano anche in passato, magari la luce che non si vedeva abbastanza bene li abbiamo risolti in questo modo. Quindi passiamo direttamente alle uscite di questa settimana della Marvel e partiamo appunto proprio da Empire. Empire è il numero uno che fa parte appunto della Marvel miniserie numerata 236 gli autori sono Ewing, Slot e poi c'è appunto anche Valerio Schitti al disegno. Quindi finalmente partiamo con il numero uno di questa serie, di questa miniserie e abbiamo appunto Hulk subito così nel background ma in realtà con una parte molto preponderante della copertina perché chi meglio chiaramente del figlio di uno Skrull e di un Kree poteva rappresentare la minaccia all'interno di questo evento proprio perché c'è questa coalizione e non vi spoilerò più di tanto. Allora mi sono confrontato con tantissime altre persone che comunque leggono da tanto tempo Marvel o leggono Marvel e altre testate e tutti siamo d'accordo sul fatto che effettivamente questa miniserie è veramente molto interessante ve l'abbiamo detto, l'aspettavamo, è un maxi evento. C'è un po' di ritmo che probabilmente manca all'interno della narrazione e difficilmente verrà recuperato probabilmente nei prossimi numeri però nulla è perfetto e se dobbiamo proprio trovare diciamo il pelo nell'uovo come si suol dire il ritmo di questa storia effettivamente è un po' carente, non è abbastanza incalzante però vediamo, magari ci saranno sorprese più avanti. Sempre tra l'uscita di questa settimana chiaramente c'è anche la variant di Empire a prezzo di 7€, variant peraltro molto bella e molto interessante che vi consiglio assolutamente di acquistare se non l'avete fatto. Arriviamo ai Fantastici 4 che fanno sempre parte, diciamo, del... questo numero fa sempre parte dell'evento Empire, no? è coinvolto, una delle testate che è coinvolta direttamente è un tie-in come si suol dire all'interno della storia e i Fantastici 4 insieme agli Avengers e insieme agli X-Men e ad altre tre state chiaramente saranno protagonisti non soltanto all'interno della miniserie di Empire ma anche al di fuori con quelle testate, con le loro testate regolari. Anche X-Men vedete targato Empire, questa è la serie appunto di Ickman che viene totalmente coinvolta all'interno dell'evento anche tutto quello che riguarda, diciamo, appunto le sorti di Cracoa vengono totalmente coinvolte e abbracciate all'interno della serie... della miniserie di Empire anche con la loro testata regolare. Andiamo avanti sempre con l'Immortale Hulk che in questo caso non è coinvolto, vedete che non ha il login Empire. Serie eccezionale, siamo arrivati al numero 26 non c'è bisogno di parlare di altro, diciamo, su questa serie perché è veramente super consigliata se non l'avete iniziata, adesso sono iniziati tutti i cartonati quindi potete recuperarla da lì e vale veramente la pena di leggerla. Tony Noir, Tony Dark, che si alternano a una trama veramente eccezionale. Spider-Man numero 47 Anche qui prosegue, appunto, tutto quello che è la programmazione speriamo adesso senza ritardi bimestrale quindicinale, scusate di Spider-Man e abbiamo, appunto, anche Iron Man, il numero 6 che arriva al sesto capitolo, appunto, della o meglio, scusate, al quinto capitolo della serie di Slot numero 6, ma quinto della serie di Iron Man 2020. eravamo partiti abbastanza bassi l'ho redetto un sacco di volte ve lo redico anche adesso adesso i toni di questa serie diventano interessanti proprio perché per due motivi principalmente perché abbiamo il personaggio di Tony Stark che comunque ritorna un po' come protagonista e poi perché proprio la narrazione in realtà si è fatta molto più interessante. Avengers numero 24 anche in questo caso, come vi ho anticipato prima c'è coinvolgimento di tutto quello che è il mondo della ministeria di Empire quindi vedete che è proprio logata anche la copertina e chiaramente è un 48 pagine ed è uno spillato c'è Aaron alla regia Capitan America numero 23 3 euro spillatino 24 pagine e anche qui prosegue con il numero 2 le sorti diciamo di Cap all'interno della serie all'interno del maxievento di Empire Thor numero 5 qui abbiamo la prosecuzione della run di Tony Cates che sta piacendo questo coinvolgimento di Galactus tutto questo sconvolgimento dei piani di Asgard ma anche questa narrazione che è ruota un po' intorno all'appesantimento del martello di Thor è molto interessante sono belli i disegni sono coinvolgenti sono giusti sono giusti anche proprio per la narrazione che fa Cates e diciamo che sta appassionando moltissimo e nonostante ci fosse stato qualche scetticismo all'inizio in realtà siamo il numero 5 fate in tempo a recuperarla merita merita tantissimo anche se non avete letto prima perché chiaramente questa è una ripartenza dopo gli anni di narrazione di Jason Aaron quindi è un vero restart questa è una specie di Iron Man 2020 poi sempre questa settimana è uscito Venom 27 sempre con Tony Cates alla regia abbiamo ancora Venom 27 ripeto due volte Marvel Spider-Man La Gattanera Colpisce Ancora che è il numero 3 è questo è il terzo brusso ratino dedicato che contiene la miniserie di appunto di The Black Cat dal 1 al 5 e fa parte all'interno un po' del game verse per questo che vi dico il numero 3 perché la costina sarà numerata al numero 3 perché ci sono stati altri due numeri in precedenza rispetto a questo ma se siete fan del personaggio ve lo consiglio io l'ho preso dopo lo vediamo Marvel Vets Black Widow anche questa è una raccolta di storie come vedete ce ne sono tantissime all'interno di questo cartonato di 112 pagine che raccoglie autori vari comunque sempre che hanno al centro dell'attenzione le storie di Black Widow della vedova nera e abbiamo il numero 2 finalmente cartonato di Valkyria Jane Foster questo è un po' per i nostalgici della serie di Jason Aaron è quello che ci tiene attaccati ancora alla narrazione di Aaron in questo periodo su quello che è tutto il mondo di Asgard comunque le vicende legate a quello che gira intorno appunto al mondo di Thor del Thor di Jason Aaron quindi finita poi anche questa serie di Jane Foster nei panni di Valkyria Aaron abbandonerà completamente le sorti di Asgard Star è nata una stella anche questa è un personaggio nuovo tra virgolette all'interno della serie della Thompson che sta facendo benissimo con Capitan Marvel che ha preso in mano Deadpool e che adesso esce con queste 112 pagine che in America sono uscite spillate qui invece sono uscite in vari spillati 5 spillati qua invece negli Stati Uniti qua invece scusate in Italia vengono raccolte tutte insieme in un unico cartonato molto interessante ve lo consiglio perché è un personaggio femminile abbastanza accattivante questa è un'altra invece raccolta diciamo degli X-Men di Grant Morrison Deadpool che ci mancava da tantissimo tempo perché effettivamente la storia della Thompson era rimasta un po' lì un po' la pandemia un po' tutti i casini che sono successi con le programmazioni di Panini avevano rallentato l'uscita di questo di questo spillato e che sta piacendo tantissimo perché non vorrei che questo vuoto che c'è stato in mezzo possa far calare l'attenzione da questo spillato che è veramente preso in mano della Thompson l'ha rivalutato tantissimo io personalmente da lettore di Deadpool negli ultimi 15 spillati prima della serie nuova della Thompson mi stavo veramente annoiando mentre invece questa ripartenza ha ridato spolvero a tutto quanto alla serie questo è il Marvel Integrale in formato bonellide degli X-Men di Chris Claremont chiaramente e passiamo alla DC con Batman che è arrivato al numero 9 quindicinale e 48 pagine è chiaramente la serie di Tom King Wonder Woman Terra Morta 2 Deceased Unkillables di Tom Taylor a me era piaciuta tantissimo la prima raccolta e chiaramente ho preso anche questa dopo ve lo faccio vedere è criticata da tanti che non hanno apprezzato perché non apprezzano probabilmente Tom Taylor ma in realtà qui c'è un'espressione dell'autore che è pazzesca quindi io questo ve lo consiglio ma vi consiglio di prendere anche la prima uscita di Deceased se non l'avevate presa a suo tempo quando era uscita un paio di mesi fa forse anche di più era uscita quest'estate se non erro correggetemi se sbaglio nei commenti mi raccomando La legione di supereroi numero 1 lunga vita La legione che fa parte della DC Comics Collection e raccoglie appunto del numero 1 numero 6 le sorti della legione di supereroi sotto la sapiente guida di Brian Michael Bendis Batman e gli Outsiders numero 2 questo è un altro di quei punto di rottura è un altro di quei diciamo cartonati che io non sto prendendo magari recupero più avanti al momento i pareri sono medi diciamo diciamo che quello che vede è un voto 7 non c'è niente di eccezionale ma neanche pessimo diciamo Superman Origini Segrete qui fa parte appunto della DC Library e perché fa parte della DC Library perché c'è la firma di Geoff Jones e raccoglie appunto Secret Origin di Superman dal numero 1 al numero 6 finita questa carrellata sulla sulle uscite settimanali molto veloce io passerei definitivamente ad anteprima 350 e partiamo subito da Marvel da tutto quello che riguarda Marvel perché perché ci sono tanti annunci importanti e vediamo subito Iron Man così qua davanti personaggio molto dibattuto nel senso che amatissimo dai fan dell'MCU un po' per la personalità che ha comunque Robert Downey Jr un po' perché effettivamente è stato il lancio dell'MCU con Iron Man 1 poi dopo si sono susseguite tutte le vicende che hanno fatto diventare l'MCU quello che è oggi fino ad arrivare appunto ad Endgame e in realtà se siete lettori di Iron Man lo avete letto negli ultimi anni e mezzo due anni in realtà non avete non riuscite a trovare lo stesso hype che c'è ad esempio il lato cinematografico un po' perché la serie a mio modo di vedere è stata un pochettino distrattata e un po' perché effettivamente la narrazione non era quello che tutti ci aspettavamo che fosse ci sono stati dei rilanci adesso con l'avvento di Iron Man 2020 il fatto che comunque sia stato un nuovo spolvero con l'introduzione della figura di Arnold Stark il fratello di Tony così forte così preponderante all'interno della serie e ci sono diverse ripartenze sono state diverse ripartenze questa ripartenza qua di Iron Man 1 invece a mio modo di vedere sarà molto molto interessante perché perché innanzitutto vabbè cover di Ross e non soltanto nella variant ma soprattutto perché c'è anche un cambio appunto del team creativo alla regia e quindi vale la pena veramente di ricominciare e leggo quello che testualmente dicono anche le righe di anteprima che condivido al 100% ovvero il momento ideale per iniziare a leggere le avventure di uno dei più grandi di Marvel anche a mio modo di vedere il fatto che ci sia delle copertine delle variant così interessanti di Ross il fatto che comunque ci sia la possibilità di avere uno spillato da 40 pagine e che ci sia un cambio di rotta su una serie che fino adesso non è stata trattata benissimo può essere veramente l'inizio di un qualcosa di interessante nulla vieta di prendere i primi tre numeri e poi decidere se è il caso di andare avanti o no Empire numero 4 chiaramente si prosegue e si arriva al punto di svolta della serie di Empire in dicembre con Empire numero 6 numero contenuto all'interno di questo numero 4 panini Empire 5 che contiene invece è sempre uno spillato e contiene Empire Avengers Aftermath e Empire Fantastic Four Fall Out Avengers numero 26 che in questo caso presenta un personaggio molto interessante che è Moon Knight lo vedete qui che si combatte con Black Panther e che ha chiaramente Aaron in regia sempre contiene Avengers 36 del 2018 e Avengers 3 del 2020 Fantastici 4 numero 25 Sloth e Medina invece i disegni Capitan Marvel numero 19 anche qui abbiamo la Thompson che ancora queste piante dovrebbero farvi capire qualcosa anche tutto il background chiaramente c'è ancora un coinvolgimento invece in queste pagine per quello che riguarda la miniserie di Empire X-Men numero 11 ancora siamo nelle sorti di Empire proprio perché vedete lo dice anche la descrizione appunto dell'anteprima dice quotati danno l'assalto a Krakow quindi siamo ancora in pieno svolgimento della serie di Empire Thor numero 7 del maxievento di Empire Thor numero 7 c'è Donny Cates e anche qui vedete continua a girare a ruotare intorno a questa storia alla presenza di Galactus e al fatto che comunque il martello di Thor inizia anzi continua ad essere sempre più pesante e bisogna capire come risolvere questo problema e il perché si sta pesantendo in questo modo Cap numero 25 anche qui andiamo avanti veloce perché tanto sono le serie regolari lo sapete che ci sono Amazing Spider-Man numero 51 numero 52 quelle varie variant Venom numero 29 qui prosegue ancora la corsa di Donny Cates Marvel's X numero 6 anche qui appunto va avanti questo evento legato alla trilogia X con Alex Rocks chiaramente al disegno X Factor 1 non è una trasmissione ma chiaramente fa parte di tutto quello che è il mondo delle testate satelliti che adesso ne vedremo altre che partiranno in dicembre legate al mondo di Krakow e delle avventure degli X-Men Marauders numero 9 New Mutants numero 9 X-Force numero 9 quindi proseguono tutte le altre Wolverine numero 7 Guardiani della Galassia numero 4 anche qui c'è una ripartenza con Ewing alla regia e siamo già arrivati al numero 4 Deadpool 5 prosegue qui invece Randella Thompson Daredevil numero 19 l'Immortale Hulk numero 28 vado velocissimo perché lo sapete l'Immortale Hulk numero 29 Spider-Man 4 invece questo è quello della Pichelli che finalmente ritorna ragazzi c'è stata una pausa pazzesca un po' perché la fiamma negli Stati Uniti un po' la pandemia un po' tutto quanto andiamo avanti finalmente con la lettura di questa mini serie dedicata a Spider-Man che vede la regia appunto JJ Abrams e il figlio Henry Abrams e proseguono anche chiaramente gli integrali quello che riguarda Spider-Man e quello che riguarda chiaramente l'Incredibile X-Man Marvelverse WandaVision anche qui uscite legate come sempre al discorso dell'MCU perché stanno repartendo tutta una serie di serie che è legata a diversi personaggi tra cui WandaVision appunto e qui abbiamo un'altra raccolta che è spinta diciamo un po' da quel filone lì da quell'ondata abbiamo Marvel Zombie Resurrection consiglio a tutti quelli che sono fan di questo genere di chiamiamoli crossover zombie Marvel speciali e raccolte che proseguono veramente e abbiamo ritorniamo stato velocissimo perché parlavo prima degli X-Men di quello che sta ripartendo intorno alla serie di Krakow che sapete che a me interessa tantissimo e qui abbiamo Cable numero 1 qui c'è praticamente la raccolta numero 1 numero 4 della serie di Cable che chiaramente è negli Stati Uniti di uscita spillata ed è di Gary Duggan che sta facendo bene benissimo tutto quello che scrive in un momento secondo me creativo pazzesco e fa parte appunto della testata satellite di tutti gli eventi che ci stanno che si stanno seguendo all'interno della rampa principale degli X-Men gestita da Jonathan Hickman e che risulta il prologo questo dell'evento del maxi-evento che è appunto X of Swords che seguirà appunto quello che sono state le sorti di Empire sono slegati non c'entrano niente uno con l'altro però c'è stato l'evento di Empire adesso c'è successivamente finito Empire riparte X of Swords stessa cosa per Helions vedete c'è Psylocke subito qua davanti perché è un altro diciamo un'altra serie uscita spillata negli Stati Uniti che qua viene raccolta e appunto in questa uscita c'è del numero 1 numero 4 Mystica bella da morire questa invece non c'entra niente è una raccolta di storie che come dice giustamente prima arriva prima di Cracoa e di Daunovix Daunovix e Occhio di Falco Caduta Libera questa è un'altra raccolta di uno spillato che è uscito in 6 numeri e che poi proseguirà speriamo Ghost Rider volume 2 Cuore di Tenebra questa è un'altra raccolta che segue appunto il numero 1 che era già uscito Ravencroft Istituto per Pazzi Criminali questo se avete letto Absolute Carnage se avete letto tutte le serie intorno appunto all'evento di Absolute Carnage secondo me esce un po' tardi adesso però è comunque interessante perché è direttamente legato a quelle vicende lì costa 200 buonanotte sono 208 pagine e costa 24 euro ed è un cartonato Avengers volume 3 La guerra dei vampiri questa è la raccolta della run degli Avengers che è in corso adesso di Gisonaron è la raccolta delle prime uscite roba che abbiamo letto già probabilmente un anno e mezzo fa chi legge come me gli spillati adesso arrivano le raccolte Venom Collection numero 3 numero 13 oggi non ce la posso veramente fare licenza di uccidere e anche questo è veramente interessante per tutti i fan del simbionte e chiaramente da da prendere nota per chi stava già seguendo tutto questo filone se ci arrivate adesso potete anche saltare Silver Surfer Demon Interiori anche questa è una una raccolta Avengers la zona rossa altra raccolta di Geoff Jones consigliatissimo molto raro trovare Geoff Jones sulle d'estate Marvel lo vedo principalmente lo vedo ma lo vedono tutti come un un autore della DC Comics e e quindi diciamo che trovarlo qui è interessante e penso che se siete se seguite l'autore se amate l'autore non perdetevelo assolutamente ok ritorno degli eroi queste sono tutte appunto raccolte dedicate un po' alla storia dei come anche questa dedicata ai grandi tesori Marvel di Wolverine la storia dei personaggi come vi dicevo prima idem con con tutte queste raccolte che vengono pubblicate mensilmente come lo sono anche la collezione Must Have che ci fanno due proposte per il mese di dicembre abbastanza accattivanti Spider-Man oltraggio in questo caso non conosco la serie quindi non so se consigliarvela o no diciamo che ci sono i disegni di Romita se non siete fan di questo come disegnatore lasciate perdere Spider-Man ancora faccia a faccia c'è tantissimo veramente di Spider-Man anche in questa anteprima Spider-Man ama Mary Jane volume 2 qualcosa di inaspettato e arriviamo e arriviamo sempre con i Master di Spider-Man i Vendicatori quindi ancora gli Avengers che proseguiamo nei formati chiamiamoli economici ma sempre interessanti perché raccolgono delle storie importanti del passato e abbiamo un Omnibus l'era Marvel che anche qui è per veri fan dure a morire che vogliono leggersi qualcosa di interessante la spada selvaggia di Conan numero 11 per i fan appunto del Cimbero passiamo dopo questa fase digressiva abbastanza lenta alla fine di anteprima c'erano i fuochi d'artificio li abbiamo fatti all'inizio sempre molta attenzione per quanto riguarda Marvel agli spillati nel senso che comunque quando guardate la DC Comics sono tante storie in questo periodo dopo il lancio di Panini che erano storie del passato rilegature particolari interessanti da prendere quindi c'era molto più attenzione chiaramente agli spillati per le rile regolari ma anche ai cartonati Marvel invece devo dire che se leggete tanto gli spillati le anteprime sono abbastanza esaltanti mentre invece se leggete le raccolte c'è tra virgolette ma tra virgolette meno hype in questo periodo proseguiamo quella DC Comics e abbiamo appunto Batman il numero 13 il 14 chiaramente perché è uscito due volte al mese Batman Super numero 7 prosegue appunto questo crossover Superman 14 e 15 la Justice League numero 7 vado veloce ragazzi perché tanto sono tutte le spillati Flash numero 8 Lanterna Verde numero 8 Wonder Woman numero 7 Harley Quinn numero 7 quindi proseguono serie veramente interessanti come anche quelle di Aquaman e arriviamo al Bonellide di Snyder e Capullo legato appunto a Batman e passiamo mollando un attimo di spillati passiamo ai volumi Batman Special Alfred Rip Allora questo Tom King consiglio se avete sono autori vari il formato non è antologico è abbastanza interessante raccoglie delle storie che sono veramente attuali quindi consigliato soprattutto se magari è da poco che siete sulla run di Batman avete iniziato con gli spillati pensavate di trovare qualcosa che era l'inizio di una serie in realtà era solo numero 1 per panini volete recuperare partite da qua Catwoman speciale ottantesimo anniversario anche qui sono raccolte con gli autori vari chiaramente Superman stagioni invece questo seasons questo invece è veramente molto interessante di Loeb e ve lo consiglio tantissimo lo prenderò sicuramente all'interno delle selezioni di anteprima di dicembre e se siete amanti del personaggio è anche non consigliato crisi di identità chiaramente anche questa ve la ve la straconsiglio come lettura Joker il sorriso che uccide non lo sto leggendo questo invece di Le Maire lo leggerò magari più avanti Le Queen Le Birds of Prey numero 1 non mi fermo particolarmente qui perché non è non c'è niente da notare non è imperdibile diciamo proseguiamo invece con Kingdom Come che questo invece ragazzi è da prendere assolutamente vedete già il disegno di Ross così con queste figure che comunque nello scenario anche chi ha un background cattolico impongono quasi queste divinità queste pose divine che arrivano dall'alto forte fortissimo c'è Wade Ross appunto all'interno del team creativo è la raccolta dal numero numero 4 il prezzo è importante però merita 34 euro ma merita Justice League Libertà e Giustizia qui andiamo avanti con Denis e Alex Ross non lo prenderò però se siete fan assolutamente Flash Forward invece questo ve lo consiglio assolutamente se siete amanti di Flash Shazam volume 2 avete letto il numero 1 io vi ho detto che Shazam l'ho conosciuto grazie al film ho letto il numero 1 che usciva con la variant con la City Variant l'ultima City Variant tra l'altro che ha proposto Panini prenderò sicuramente il numero 2 mi sta piacendo un casino e devo dire che avendo prima visto il film e poi avendo letto il fumetto la trasposizione da fumetto a film è veramente una figata cioè se prima il film mi piaceva adesso mi piace ancora di più perché hanno fatto veramente un ottimo lavoro non hanno naturato i personaggi Justice League volume 2 il cimitero dell'idea ancora in mente Conan e non ce la faccio veramente oggi perdonatemi ma il video è così a tappe e in questo caso appunto abbiamo Tinion Porter eccetera eccetera Jess Snyder chiaramente la regia è la Justice League l'attuale Justice League ed è la Justice League che a me sta piacendo anche di più in realtà o come volume 4 che era iniziato spillato con la Lion poi dopo è stato il passaggio a Panini e siamo voltati verso i cartonali raccolte Nightwing volume 10 Figlio Grigio andiamo avanti Massion Hunter Identità e proseguiamo con Seven Soldiers di Grand Morrison che qui 75 euro formato omnibus ma pazza per veri fan qui proseguiamo sempre con le raccolte che sono interessanti per veramente i fan duri a morire quelli che dico io della prima ora anche in questo caso il bosco misterioso dell'Holo Hoots non lo prendo sono serie che non conosco tra l'altro anche abbastanza recenti ma che non conosco non fanno parte dell'universo DC Comics ma non sono cose che mi appassionano mentre invece sto aspettando ancora il cofanetto di Sandman qui intanto va avanti la Sandman Library spero che esca a questo punto di novembre perché ottobre non so sembrava che dovesse uscire boh magari settimana prossima c'era un annuncio pazzesco però vediamo diciamo che dilazionare anche un po' le spese non fa male è importante che poi tutti questi rimandi non arrivano tutti in un colpo sole poi boom House of Whisperers volume 2 anche qua sempre fa parte appunto del Sandman Universe tutte quelle testate chiamiamo le satellite che sono intorno al Sandman Universe che ruotano ma anche all'interno in realtà del Sandman Universe John Constantine nel Blazer volume 1 questo invece è un personaggio veramente super figo all'interno dell'universo Sandman all'interno dell'universo DC in generale e lo consiglio tantissimissimissimo e poi chiudiamo invece l'appuntamento con l'anteprima 350 della DC con l'orgoglio di Baghdad serie che non conosco assolutamente mi attira non la prenderò di Brian Keevogan e la prenderò subito così in prima in prima prima battuta ma magari non escludo che dovessero arrivare in successivo successivamente dei momenti un po' più tranquilli a livello di budget allora può essere che magari mi inizierò a appassionare anche a questa serie perché vedo che il numero 1 teoricamente dovrebbe esserci anche un'avanzata e una persecuzione passiamo invece adesso con un colpo di tastiera direttamente alla camera che vi dicevo prima che ci serve per la narrazione di quella che è la mia casella fumetti questa settimana è veramente ricchissima c'è dentro veramente tantissimo e ci tengo in particolar modo a mostrarvela proprio perché ci sono anche degli appuntamenti interessanti per tutti i fan Marvel ma anche DC partendo appunto da Empire Empire che contiene al suo interno dopo la prima pagina con la presentazione tutta una carrellata su quelli che sono i personaggi che verranno coinvolti come avevamo annunciato ci sono appunto gli Avengers questi Fantastici 4 e poi chiaramente l'alleanza Kries Crew che fa tutta la parte diciamo di antagonisti e i quotati che sono appunto questo sono il pretesto o meglio il motivo per cui poi tutto questo evento ha senso di esistere e nasce qui abbiamo invece Avengers di Aaron che come vedete è coinvolto anch'esso come testata e come storia appunto all'interno della serie di Empire stessa cosa avviene per i Fantastici 4 stessa cosa avviene per il numero 9 degli X-Men di Ickman e appunto anche con Capitano America e finiamo un attimo il discorso di Empire perché quando a fin dei primi video vi dicevo ci sono delle testate minori che sono borderline le mettono le metto questi sono i momenti in cui se non state leggendo Cap vi girano un po' le scatole perché dite cavoli se avessi letto Cap se lo avessi in casella avrei la visione completa dell'evento crossover e non è solo per Empire avviene anche un po' per tutti gli eventi crossover che qui involgono poi testate che al momento sembrano silenziose però poi magari ti fanno il botto ok qualcuno può dire ok ma non posso mettere all'interno della mia casella semplicemente perché arriverà un evento una testata che in realtà adesso non mi piace vero dipende soprattutto dal budget che avete ma fate sempre una riflessione nel senso che un conto è tagliare lo spillato di Doctor Strange quando c'era un conto è tagliare un personaggio come Capitano America che comunque all'interno degli Avengers alla sua parte e quando poi arrivano arrivano gli eventi crossover poi magari ripentirti di non averli in casella Iron Man numero 6 qui abbiamo ripeto una testata che è di partita alla grande il numero 5 di Thor ripetiamo un po' quello che abbiamo visto prima nelle uscite perché in realtà queste sono le uscite della settimana che abbiamo visto all'inizio del video e che io ho in casella quindi le rivediamo un po' tutte c'è anche va bene Immortale Hulk questo ne ho parlato già tantissimo mi fermo un attimo ancora su Deadpool perché la serie della Thompson è veramente super interessante c'era chi all'inizio aveva fatto un po' fatica con i disegni perché aveva proprio il personaggio di Deadpool era disegnato in modo molto particolare da Bacalo e quindi sembrava diverso diciamo da quello che erano il Deadpool che c'era nel nostro immaginario in realtà adesso si sta andando avanti e sta piacendo note importante era stata la rintroduzione anche del personaggio di Elsa Blodson e questa partenza che c'è stata con Deadpool come re dei mostri a me è piaciuta tantissimo e i voti sono tutti super positivi andiamo avanti con lo spillato di Spider-Man che sta facendo veramente incazzare un sacco di gente perché non c'è dentro la Randy Spencer mettono dentro cose che non c'entrano niente c'è Spider-Ham e c'è dentro cose e ragazzi gli spillati in Italia funzionano così e purtroppo Panini ha l'uscita fissa e qualcosa ci deve mettere dentro anche quando magari la Randy Spencer si interrompe per la pandemia o per mille motivi cioè anche per il fatto per esempio che siamo arrivati veramente tanto a ridosso con le traduzioni proseguo invece Veno Batman chiaramente lo spillato ce l'ho assolutamente in casella e ho preso come avete potuto vedere anche la gatta nera colpisce ancora perché la gatta nera è un personaggio che mi piace tantissimo Black Cat mi piace proprio lo stile mi piace proprio il personaggio in sé quindi anche se non sono fan del Gameverse in questo caso questo brossuratino l'ho acquistato ho acquistato anche chiaramente Valkyria Jane Foster avevo il numero uno e vado avanti perché la Randy non mi sono perso nulla non mi sono perso nulla ce l'ho tutta bella archiviata e non la toccherà mai nessuno This is Ed eccolo qua questo è finalmente il secondo Duri a Morire c'era stata la prima uscita che aveva la costina rossa se lo ricordate e consigliato consigliatissimo questo e anche quello prima quindi recuperate nel caso e qui ancora bello incelofanato c'è Batman Ego Batman Ego sul quale mi fermo ancora un attimo perché avevo detto no non lo prendo non mi piace eccetera eccetera poi alla fine mi sono ricreduto e a sto giro l'ho recuperato sono curioso di leggerlo vi farò sapere sicuramente qualcosa sull'account Instagram di Nairpool.it e anche sul mio personale e avrete comunque sempre il feedback da entrambe le parti su tutti gli account sia quello che dove mi seguite già magari su Comics Detonation ma adesso Comics Detonation è al 100% una rubrica di Nairpool quindi le informazioni passano anche dall'account Instagram di Nairpool per quello che vi consiglio di seguirli entrambe soprattutto quello di Nairpool chiudiamo questo video ritornando in full screen e dicendo un paio di cose velocissime allora la prima sottolineo che se non ve ne siete accorti chi mi segue da tempo la sedia alle mie spalle è cambiata è cambiata perché Secret Lab che è un'azienda che appunto fa queste sedie da gaming ci ha mandato in redazione di Nairpool questa sedia da testare e è una sedia che veramente mi ha appassionato tantissimo per mille motivi e tutto quello che riguarda la sedia non vi voglio tediare lo metto anzi l'ho messo in realtà nella recensione che ho fatto su Nairpool.it e di cui vi linko vi do il link esattamente per leggere all'interno della descrizione di questo video l'unica cosa che vi voglio far vedere che invece è a tema è il fatto che ci sia la personalizzazione di Batman e qua non so se si vede bene però qui c'è appunto il logo di Batman perché è personalizzata sia a fronte sia a retro con questa impuntura che non è una patacca appiccicata ma è proprio ricamato sopra fighissimo e devo dire che poi tutto quello che riguarda invece il comfort della sedia eccetera eccetera andatelo a vedere nel link ho fatto proprio una recensione sul sito dettagliata con tutte le foto il montaggio l'unboxing eccetera eccetera quindi meritava veramente una menzione perché se siete non solo lettori ma anche magari gamers o semplicemente cercate una sedia comoda per stare in postazione per leggere o per usare il pc questa veramente ve la consiglio la terza che ci mandano non loro hanno ammalato anche altre case e devo dire che questa veramente è quella che mi sta più di tutti in questo momento appassionando ecco quindi piccola digressione anche su questo consiglio extra e spero che tutto quello che è stato presentato durante questo video che ricapitola un po' quelle che sono le uscite della settimana ma anche quelle che sono le uscite che ci saranno nel mese di dicembre con l'anteprima 350 vi siano piaciuti vi siano stati d'aiuto per capire che cosa comprare e che cosa no vi consiglio anche chiaramente di commentare il video o di andare a leggere tutto quello che pubblichiamo chiaramente anche su nerpool.it nella nostra sezione fumetti abbiamo rifatto la home page abbiamo rifatto soprattutto lato mobile tante novità per migliorare la lettura per darvi più accessibilità anche alle notizie e attendo quindi i vostri feedback attendiamo tutta la redazione attende i vostri feedback sia qui su youtube ma poi anche sul sito quindi stiamo cercando veramente di mettere in piedi questa community cercando di essere sempre più proattivi cercando di tenere sempre a margine tutto quello che non c'entra con il contenuto vero e proprio e cercando poi di darvi ovviamente la nostra opinione soggettiva se vi interessa ma anche qualcosa di più oggettivo possibile in modo che potete avere tutti gli strumenti per decidere quali saranno i vostri prossimi acquisti sia a tema fumetti o anche in altri campi quindi come sempre se questo video vi è piaciuto vi consiglio di mettere un bel pollice in su di commentare tutto quello che vi passa per la testa se non siete ancora iscritti al canale vi prego di farlo così almeno non vi perderete nessuno dei nostri prossimi video e ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao